Bene a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in quel oratorio con due miei amici. Uno questo qua, che l'avete già visto in Arian Prank, se lo seguite, e uno lui pure... Oh, passate anche sul mio di canale! Sì, lui si chiama... Willy Channel. Willy Channel, passate sul suo canale. Lui non ha canale YouTube, però l'avete già visto su Arian Prank. È un V2P. Naturalmente se lo... Naturalmente se lo... Scusate! Non ci arrivo! Scusate fratti, ma... Stanno facendo una partita e hanno buttato di qua la palla e volevo andare a prenderla, ma... Oh raga, ragazzi, 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 dovete vedere questa cosa epica, aspetto. What the fuck? Dovete mettere... Tre like... Dieci like per questa... Sì, dieci... No... Io ho diciotto iscritti, il massimo è cinque... Tre like per questa cosa, falla di falla. Tre like e prossimo vlog da Willy Channel e Davide Lercara. Vai, falla di nuovo. Falla di nuovo. Falla di nuovo. Questa roba, perché prima non ti ho inquadrato. Alza la sedia con le chiappe! Questo qua è un mago. Ah, caduta. Comunque, tre like per il prossimo nuovo vlog a Willy Channel e Davide Lercara. Mi raccomando, se volete iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuto questo video lasciate un like. e tra qualche giorno un commento. Passate sul mio, passate sul mio canale, il Davide... Ah, tu non hai il canale, mi schiaccia. No, l'ho fatto. Ecco, perciò. Allora, mi raccomando... Passate sulla mia pagina di Facebook di nome Mattia Willy o qualcosa del genere. E sulla pagina di Instagram di nome Mattia Messi 03. No, Mattia Willy. No, su Instagram. Ho cambiato. Ah, ho cambiato Mattia Willy. E quella di Davide, che ovviamente... Davide 1907... No, 1907... Davide 1907 BG. Sì, giusta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, quello di Willy Channel, quello di Arian Prank, quello di Big Glory 02. E quello di Luca TV. E... è uno. Mi sono iscritto. E poi... Iscrivete anche al mio. Davide Encara. Adesso mi sa che raggiungiamo i 9 iscritti. Vuol dire che quando arrivi 10 iscritti ci sarà... Anche se è di notte ci sarà... Uno speciale. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.